La stagione 9 è arrivata su Brawl Stars e di conseguenza tutti i premi della stagione 6 sono stati riscossi in automatico Quindi mi trovo qua con appunto i premi della stagione 6 da andare a ritirare, non è tutto il pass Avevo lasciato qualche mega cassa, qualche cassa enorme, ma adesso andiamo a vedere tutti i premi E... beh ragazzi, ah beh beh sì certo In realtà non abbiamo trovato nessun brawler perché Bell era il brawler della stagione 6 Abbiamo trovato due star power, tre gadget Ovviamente Bell skin finale, Colt skin iniziale Per il resto solo potenziamenti, oro, le varie reazioni del pass, 40 gemme del pass, tutta roba del pass Quindi è... c'è andata un po' male